ciao ciao a tutti finalmente torniamo in montagna questa volta ambiente molto bianco dopo le abbondate nevicate nei giorni scorsi ci troviamo poco dopo il paese di Bratto verso Schipario in Tavana e stiamo puntando alla cascata del Vaux successivamente sulla strada di ritorno andremo percorreremo la via Mala sono due tappe che abbiamo già percorso tempo fa solamente che non erano come ce le aspettavamo infatti si sperava di trovarle tutte ghiacciate invece i tempi non c'era quasi l'erba ma poco ci mancava siamo ottimisti ha fatto molto sreddo e vediamo iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo la cascata del Vaux ci siamo spostati sulla via Mala che è a circa 20 minuti di distanza poco sotto il passo Presolana Grazie a tutti 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 Grazie a tutti